Il San Michele avrebbe meritato la vittoria, ma invece nemmeno il pareggio. Ne parliamo con mister Domenico Mammoliti. Eh sì, perché effettivamente siamo usciti fuori troppo tardi al gol subito. Certo c'è un rammarico perché i primi due gol abbiamo subito uno sul calcio piazzato e il secondo su un infortunio della difesa. Però ancora più rammarico c'è di non aver portato punti a casa. Abbiamo espresso ancora un bel gioco, abbiamo cercato di cambiare modulo in corsa per dare un po' più di verbi in attacco spostando Fiorino mezza punta e avvicinando le due punte però alla fine il forcing anche dopo quella ultima traversa e poi il tiro davanti alla porta è sbagliato, ci hanno condannato alla sconfitta. Allenatore in seconda del San Michele, una partita oggi che avete perso, forse meritavate qualcosa in più? Sì sì, c'è un gran rammarico per noi perché appunto ci abbiamo provato specialmente nel secondo tempo ed è stato un peccato. Durante la settimana la prepariamo sempre nel migliore dei modi in base all'avversario che abbiamo di fronte. Oggi abbiamo affrontato il Borgo, assolutamente una squadra di livello che sicuramente arriverà nelle prime posizioni e noi le prepariamo settimana dopo settimana sempre con il piglio giusto e credo che specialmente nel secondo tempo oggi si è visto in campo. C'è sempre da migliorarsi, in settimana ne parleremo e cercheremo di migliorarci dai nostri errori. Siamo umili proprio per questo. Mister Antonio Cormaci, una vittoria dopo aver dominato i primi 20 minuti del primo tempo, perché dopo siete un po' andati in difficoltà? No, andati in difficoltà. Ci sono anche gli avversari, quindi loro sono un'ottima squadra e abbiamo impattato bene il match come dovevamo e ci siamo ritrovati sul doppio vantaggio. Lì probabilmente ancora non siamo quelli che dobbiamo essere spietati e continuare a giocare, però è pur vero che ci sono gli avversari. Quindi purtroppo io nella fine del primo tempo gli ho detto che per toglierli dal match dobbiamo fare ancora il terzo gol, perché un gol potrebbe poteva riaprire le cose, così è stato. Abbiamo preso un gol sul nostro errore, secondo me, difensivo. Le insite però sono sempre dietro l'angolo, quindi già domenica a Bocale contro il Pelloro affrontiamo una squadra forte, quindi già è un'altra partita da prendere con le molle. Quindi partite facili non ci sono, anche perché con 14 squadre è facile per chi è dietro risalire e per chi è davanti perde la strada. Quindi dobbiamo vivere e veramente giocarci partita per partita poi. Se giochiamo al massimo probabilmente vinciamo. Ritengo che già la prova di esame di domenica scorsa a Bova aveva dato un verdetto. Quello di oggi lo sta riconfermando. La prossima, se andrà come speriamo, sarà ancora di più a certificare che effettivamente dovremmo essere noi la squadra da battere, perché tutto rispetto per San Michel, tutto rispetto per la Bovese, tutto rispetto per le Cinque Frondesi che è riuscita a vincerci, però oggi purtroppo ha lasciato qualcosa a stare facendo. Noi oggi siamo primi, quindi quello che si vede in campo si vede una squadra che ha volontà di giocare, che il mister la mette bene in campo, che i ragazzi fino alla fine si sacrificano e che poi ogni pezzo che è arrivato in questa squadra dà il suo contributo. Gizzo Marino oggi quasi l'ha vinta da sola la partita, perché due gol sono frutto della sua firma e il terzo che non è entrato era sempre frutto della sua firma.